Siamo venuti qui perché eravamo io e Lanciano nella stessa situazione, io mi dovevo rilanciare e Lanciano doveva rilanciarsi, quindi stiamo riuscendo entrambi e vogliamo assolutamente continuare così con l'aiuto dei compagni, del ministro e della società. La sento ancora di più questa esperienza perché ovviamente mi sento a casa, quindi mi sento ancora più responsabilità addosso, poi il fatto di essere carico e di prendermi le responsabilità e avere una grossa personalità quello l'ho sempre avuto, però magari qui riesco a mettere ancora quel qualcosa in più. Diciamo che il mio posto ideale sarebbe in un centrocampo a tre davanti alla difesa, però non nascondo che mi sono adattato anche gli altri anni sia da mezzala sia a due, ho fatto addirittura anche il trequartista, però ripeto il mio ruolo congeniale sarebbe davanti alla difesa. Il compito nostro è quello di farci trovare pronti, poi il mister ovviamente ogni sabato deve fare delle scelte e in campo ce ne vanno purtroppo solo 11, meritiamo tutti una maglia da titolare, se ci dà un minuto oppure ce ne dà 90 noi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo il tempo che ci dà e poi la settimana dopo ripartire.